Allarme e criminalità organizzata in Toscana, si mettono in campo le contromisure, Pistoia applica per prima una nuova misura di prevenzione. Walter Rizzo ha intervistato il prefetto. Una misura di prevenzione antimafia nuova di Zecca, si chiama prevenzione collaborativa e ad applicarla tra i primi in Italia e di sicuro per primo in Toscana è stato il prefetto di Pistoia Gerlando Iorio. Prevede una sorta di cooperazione, partecipazione del soggetto interessato al procedimento e un affiancamento nella gestione successiva che serve ad accompagnare l'attività imprenditoriale per un periodo limitato, da sei mesi a un anno, durante il quale si esercita un periodo di vigilanza rispetto alle attività imprenditoriali per verificare se si può poi determinarsi ad adottare o meno un'interdittiva finale. La preoccupazione che le mafie mettano le mani sui fondi del PNRR è alta e si stanno attrezzando delle contromisure. È stata fatta un'attività di predisporre delle sentinelle sul territorio per attirare l'attenzione delle forze di polizia, degli organi investigativi rispetto a questo fenomeno. Per prevenire non bastano però solo le misure antimafia, secondo il prefetto Iorio è fondamentale una collaborazione ampia a tutti i livelli. Allertare i sistemi di vigilanza richiedono una partecipazione di tutti, gli enti locali, le stazioni appartanti, le categorie produttive. Abbiamo pensato di aprire l'esperienza del GIA, del gruppo Interforze, ai contatti con le categorie produttive, perché si potesse creare un confronto, un flusso informativo che potesse indirizzare l'attività poi d'indagine delle forze di polizia. Uno dei punti principali è quello della consapevolezza in Toscana. Questo è un settore soprattutto che bisogna sempre attenzionare con la massima attenzione e tenere una barriera di salvaguardia molto, molto, molto elevata.